Ecco, adesso c'è l'entrata in campo delle due formazioni, ci troviamo al comunale di Ortona per la gara del campionato provinciale categoria giovanissimi, Ortona Calcio Virtus Castelfrentano. Eccoci al sorteggio, il direttore di gara è della sezione arbitri di Chieti, ecco i nostri ragazzi con la divisa classica giallorossa, mentre l'Ottona Calcio con bianco celeste, ovvero tutto celeste all'infuori dei calzettoni bianchi. Ok, io dopo vi rifaccio una foto alla prossima gara, ok.